L'ordine del giorno ringrazio l'associazione Assessicilia che ha fatto pervenire a questo Consiglio Comunale l'amministrazione alcune copie del calendario che insieme ad alcuni cittadini e insieme a tantissimi imprenditori locali hanno realizzato un calendario per il 2015 dedicato alla città di Paternò che raccoglie le foto di diversi amanti della fotografia che con i loro scatti hanno voluto porre l'attenzione di tutti, i monumenti, i paesaggi naturali e le feste quindi grazie anche a nome dell'amministrazione per i calendari che sono qui.